abbiamo fatto della serie B a diventare più letale perché poi hanno visto anche i numeri di rilasso la porta e le realizzazioni sono molto distanti. Troppo, troppo a mio avviso nell'ultimo partito è stato così, abbiamo segnato poco ma abbiamo creato tanto e lì al di là di lavorarci in settimana ci vuole la giusta cattiveria, la voglia di fare gol, la voglia di mettere la parla dentro e non cercare la cosa più difficile o la cosa più bella bisogna essere molto più efficaci perché anche a Brescia è stato veramente dopo un secondo tempo fatto in quel modo creando dieci situazioni, non parliamo di dieci palle gol ma dieci situazioni in cui una squadra deve essere più cinica, più killer, più cattiva, più rabbiosa per fare gol. A proposito di attacco, al di là di Pazzini, poi vediamo se giocava o meno, ti chiedo se ci sono delle gerarchie oppure se la scelta di Danza, Cappelluzzo o chi per lui sono dettate invece dall'avversario, dalla situazione della partita, cioè in base a cosa scegli? Non ci sono gerarchie, io penso a questa gara, penso a questa partita, vedo gli allenamenti, vedo la condizione, vedo la condizione generale della squadra, del singolo e chiaramente tengo conto dell'avversario. La scelta iniziale non significa nulla perché può essere fatta anche tenendo conto delle scelte in corso perché possono essere determinanti, chi riesce anche a darmi qualcosa in più dall'inizio o qualcosa in più partita in corso. Per cui io le valutazioni farò in questo senso, pensando alla partita con l'Ascoli, tenendo conto della condizione generale della squadra e di ogni singolo giocatore, tutto qua, senza gerarchie, senza pensare alle carte d'identità e a niente. So Gianni, direi che partite contro l'Ascoli, però... No, ma tanto voi siete bravi, tanto sapete, i dati li conoscete molto meglio, quindi l'Ascoli cos'è, come si prova in classifica, i dati in casa, fuori casa e io di questo non parlo con la mia squadra e quindi ma dobbiamo mangiare la nostra prestazione. Partita impegnativa perché come del resto sono tutte e al di là di quello che è la classifica attuale, l'Ascoli tanto voi lo sapete benissimo, quelli sono i dati dell'Ascoli. Quindi, è proprio quello che volevo chiedere, come si fa ad una squadra che adesso ha preso fiducia perché dopo due vittorie consecutive si crede più nei propri mezzi. Questi fatti nella ferma lì, piantata per terra, non vi dà il rischio di sottovalutare la prestazione? No, questo non è il momento, non è la situazione, non è la gara. Sì, abbiamo fatto due vittorie, contenti, perché anche la vittoria non rigasa, da tanto tempo ci mancava, però è già passato e fa parte veramente del passato. Quindi dobbiamo essere in grado di vivere queste partite con la stessa voglia, la stessa determinazione e giochiamo per i tre punti, come l'abbiamo sempre fatto. Tante volte ci riusciamo, in alcuni momenti anche gli episodi sono favoriti, in altri gli episodi vengono meno, ci devono contro, ma noi dobbiamo pensare a questa gara e pensare a quello che abbiamo fatto sempre. con più voglia, più determinazione e anche con più fiducia, perché le due vittorie, quando dicevo anche veniamo, sì, da sconfitte, ma le prestazioni che mi prendevano per pazzo, io continuo a dire che le prestazioni erano positive, anche se non è semplice dire quando si perde una prestazione positiva. Ecco perché poi il bravo allenatore è solo quello che vince. Un ultimo battuto su Zaccani, perché adesso è diventato uno dei punti migliori in questo periodo. Allora vogliamo essere da Zaccani, ma un po' Pecchia, guarda, Zaccani. Mi manca qualche gol, cioè deve fare qualche gol in più, guarda, e a qualcosa sicuramente, mi piaceva entrare molto di più in aria rispetto a me. Quindi mi piacerebbe da centrocampista, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare, quando fanno le mezzali, mi piace. Mezzali che arrivano molto di più in aria, e Zaccani sta crescendo come uomo, come calciatore, sono contento della sua crescita, anche perché è un padrimonio del club, però con i giovani bisogna stare a fare molta attenzione, bisogna aiutarli a crescere, sia da parte mia, sia da parte dell'ambiente esterno. Grazie.